L'originale striscia adesiva per le tue costruzioni. Tagliala, dalle forma, attaccala e poi costruisci sulle finestre. Puoi creare un mondo intero, flessibile, costruisci a testa in giù. La puoi utilizzare tutte le volte che vuoi ed è compatibile con tutti i tuoi mattoncini. Infinite possibilità per costruire! L'originale striscia adesiva per le tue costruzioni. Solo da Giochi Preziosi